Botta e risposta tra il sindaco di Chioggia Mauro Armelao e il consigliere comunale Montanariello in tema The Mystery Men. Evitando di entrare in campi non suoi ma peculiari dell'ambito religioso spettanti alla diocesi, il consigliere Montanariello è entrato nella discussione con gamba tesa, portando all'attenzione quattro determine con cui si evidenzia che il comune per la mostra in chiesa San Domenico ha investito fino ad ora 180 mila euro di fondi pubblici. E sottolinea il consigliere che la priorità dovrebbe essere fare il bene della città e che il ruolo del sindaco dovrebbe essere amministrare, capire il disagio dei cittadini a causa del verde non tagliato per motivi economici, afferma, come dichiarato dalla stessa amministrazione, o per il costo della mensa scolastica. La lista della spesa si apre con 100 mila euro per la società spagnola curatrice dell'evento in calza Montanariello, il quale suppone che quei soldi si sarebbero potuti spendere per aiutare le persone più fragili. Secondo il consigliere è innegabile che in questo momento le famiglie chioggiotte abbiano altre esigenze. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo, in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. All'Indiga il gelato da passaggio